1, 2, 3, via! Vai Mauro! Vai Mauro! Valeva la pena aspettare per questo numero, eh? No! Perché? Che numero è? Che ne so. Finito, Mauro? Sì, ora basta. Non sto a perdere fatture così. E lui no, quanto ti piace tutto? Eh, mi piace tanto, tanto. Mauro, fai il finale? Finale? Inchino finale? Non ancora, è lungo. 40 minuti. Io scherzavo 40 minuti, Mauro, va che notte, eh? Si va mattina, eh? Dai, saluto finale? A ballo, a ballo si deve fare lì. Ma questo, quello è sì. Stavo bene? Però è più egocentrico del padre, abbiamo scoperto. Già il padre lo è, eh? Mauro, saluto finale adesso, eh? Inchino, basta, solo. Inchino? Bravo, bravo. Bravo, bravo. Grazie. No!